Non saranno i chilometri a separarci, quando in ricordo la gratitudine, l'affetto e la preghiera ci uniscono. Così Monsignor Giovanni Santucci, vescomo emerito della diocesi apuana, nel corso dell'Omelia all'interno della Messa di Saluto di venerdì 29 gennaio, nella parrocchia di Maria Santissima Mediatrice ad Avenza. Alla Santa Messa erano presenti i sacerdoti, i diaconi, i rappresentanti dei religiosi e delle religiose, i fedeli laici in rappresentanza dei sei vicariati della diocesi, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. Presenti anche il Vescovo di Volterra, Monsignor Alberto Silvani, il Vescovo di Imperia Albenga, Monsignor Cugliano Borghetti e il Vescovo Emerito Eugenio. Hanno partecipato alla celebrazione anche numerose autorità civili e militari del territorio. Monsignor Santucci ha evidenziato di non volere fare bilanci del percorso che ha concluso, ma ha voluto esprimere gratitudine e affetto per gli anni trascorsi alla guida della chiesa puana. Le difficoltà, i problemi non mancano, ha detto, ma non ci portano ad arrenderci, casomai ad impegnarci di più, ed è l'augurio che ci facciamo affidandolo alla bontà di Dio. Al termine della celebrazione il vicario generale Don Cesare Benedetti ha formulato un messaggio di saluto. Oggi vogliamo esprimere tutta la nostra comunione e riconoscenza al Vescovo Giovanni che si congeda dalla nostra Diocesi. E ancora, gli accessi alle nostre case parrocchiali, alle nostre canoniche, sono sempre aperti e che la grazia del Signore sia sempre con lei, che oggi sentiamo ancora di più come fratello. Infine, per le mani di due sacerdoti ordinati dal Vescovo Santucci, è stato fatto in dono un callecito di marmo a ricordo della terra puana.